Io giudico sconcertante, ve lo faccio vedere. E lì, questa finestra un po' aperta, è la camera mia suocera, sì, adesso è sola. Ci sono stati due o tre giorni di abbandono totale. In questa casa di riposo assoleto si sono contagiati quasi tutti gli ospiti. Dieci persone sono morte. La vecchia gestione ha lasciato la struttura perché anche i dipendenti si erano contagiati ed altri erano in quarantena. I gestori dicono di aver lanciato l'allarme in tempo, ma quando è arrivato il sindaco con il personale dell'ASL, gli anziani erano ormai senza assistenza. Per due giorni lei non ha mangiato, non è stata cambiata. Un giorno è stata rimasta proprio a letto completamente, perché se poi non viene alzata da nessuno, rimane a letto. Perché comunque è disabile, non riesce a sollevarsi e a mettersi seduta. Questo anche senza farmaci, per quattro giorni senza farmaci. Ha contratto il virus in struttura, è asintomatica però. Dunque noi speriamo con tutto il cuore che passi presto questa settimana per poter dire che ha superato anche questa battaglia. Per adesso sta bene, dice semplicemente ma finisce questa storia, finisce, non si capisce niente. Insomma non può essere assistita come si deve. Mia madre ha 95 anni, raccolta bel poco insomma. Preoccupava lei? Beh certo, come d'ultima. Una registrazione di mia suocera perché poi dopo due giorni che non mangiava io ho preoccupato, ho detto adesso devo cominciare a registrare quello che mi dice. Purtroppo la cosa è denunciata a tutti, lo sanno, ma non c'è gente con fatica da intro, questo è il problema. Mangiassi poi alle quattro e mezza, mangiassi qualche cosa. C'è te sera? Saluto a tutti, ciao, mi raccomando la trattata va bene. Si è affacciata dalla finestra e ho potuto vederla. Siamo fortunati rispetto a tante altre persone che purtroppo non sanno niente dei loro cari. Alcuni giorni diceva mi sento impazzire qui dentro, mi sento impazzire. E' vero, è tostissima, io credo che la cosa forse è che ci tocca di più tutti quanti ed è inammissibile che questa cosa sia accaduta, anche rispetto a quello che è accaduto a Milano, io come se bene sono garantista e non l'ho avuto sul penale, ma leggendo quello che è accaduto è assurdo che le persone più fragili siano state abbandonate in questo modo.